Ciao ragazzi, il trick di oggi è il Mitch Around the World Il Mitch Around the World è uno dei trick base del calcio freestyle ed è un mix tra Around the World e Crossover In questo tutorial ve lo divideremo in tre step Nel primo step, come per la Around the World, dobbiamo accompagnare la palla per metà giro A questo punto, aiutandovi con un rimbalzo, completate il trick e incrociate le gambe come nel crossover Grazie a tutti Ed ora, nel terzo e ultimo step, dovete completare il Mitch Around the World And if it was, I got it, my profit's gonna appeal that Per i prossimi video, cliccate qui E seguiteci su Facebook, Twitter e Instagram Ciao! 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 Ciao!